Oh ragazzi, allora segreto sto qua con Rachele, ciao Rachele! Allora oggi c'è ancora di nuovo Green Coffee, ok? Caffè verde, è andata a Ruba e ci sono soltanto pochi pezzi oggi Allora partiamo alle 11, 15 e alle 22 oggi con i pochi pezzi di Green Coffee Che cosa fa Green Coffee? Ti diminuisce l'appetito, ti fa dimagrire e ti fa snellire la pancia Oltre ad essere anche un antiossedante, allora Canale 37, le ultime pezzi di Green Coffee Perché poi dobbiamo andare in riordino perché sono andata a Ruba Ma io personalmente sono andata in vacanza forte, ho portato il mio Green Coffee con me Perché ricordate provo sempre tutto su di me prima di presentarvelo E ho perso 2,5 kg mangiando in vacanza e muovendomi di meno Allora di conseguenza questa roba è una bomba e oggi pure sono ancora più magra di ieri Allora di conseguenza se lo volete Canale 37 fra 45 minuti ma chiamate perché sta andando a Ruba E ho una bomba Ciao a tutti